Ciao a tutti ragazzi, come sempre benvenuti o bentornati su Magis of Lotus. In questo video andrò a parlare di un formato che secondo me è stato un flop pazzesco, il Pioneer. Ammetto di avere anche avuto delle rotazioni probabilmente sbagliate, o quantomeno che non si sono ancora attuate e che saranno posticipate ancora al futuro, ma tra poco ne parleremo con calma, il Pioneer si sta dimostrando veramente un flop notevole da parte della Wizard. Per iniziare però ragazzi, come sempre, vi ricordo il nostro sponsor, Fantasia Store, il nostro codice sconto, Lotus 5, scritto tutto maiuscolo, da inserire quando acquistate un prodotto dal loro sito ufficiale, perché vi dà il 5% di sconto, supporta noi e lo store. Sono fornitissimi, lo abbiamo sempre detto, sono veloci, affidabili, quindi un parco di prodotto veramente ampissimo, non possiamo che consigliarlo come negozio, come sempre in tutti i video. Allora, il Pioneer. Allora, il Pioneer ragazzi, per chi non lo conoscesse, cioè quei pochissimi che non lo conoscono, è un formato che va da Retorto Ravnica ad oggi, quindi si estende ogni set che esce, e praticamente è stato introdotto intorno al 2020, o meglio, finire il 2019, poi è stato reso ufficiale nel 2020. Inizialmente l'idea quindi qual era? Quella di creare un nuovo formato sostitutivo del Modern, che in qualche modo avrebbe poi preso il posto appunto del Modern. Il Modern è destinato comunque a diventare sempre più ampio, sempre più complesso, sempre più costoso a livello economico e meno accessibile, e quindi andare un pochino a fare la fine del Legacy nel lungo termine. Il Pioneer doveva essere un pochino il formato di sostituzione appunto ufficiale, quindi uscito da parte della Wizard. Inizialmente hanno pensato a questa tipologia di formato, l'hanno introdotto e non ha avuto un gran successo, fin da subito non ha avuto successo, perché oggettivamente il Modern era, e forse ancora ad oggi, un formato estremamente forte, estremamente forte nel senso di giocato, quindi era difficile sostituirlo, soprattutto quando è uscito il Pioneer. Però tutti pensavano che piano piano, me compreso, il Pioneer avrebbe preso sempre più piede, sarebbe stato sempre più supportato e avrebbe sostituito il Modern. E qui ragazzi però notiamo che effettivamente non è successo, cioè sono passati ormai quattro anni e non è ancora successo, il Pioneer non ha ancora preso piede, non è ancora giocato nei negozi, cioè sono pochi i negozi che fanno Pioneer e il formato è poco giocato, nonostante il formato sia bellissimo, perché il formato a me piace molto, c'è anche Explorer su Arena che alla fine ti permette più o meno di testare i deck di Pioneer, o comunque molto simili, non ha grosse criticità. Quindi qual è stato il motivo e quali sono i motivi per cui il Pioneer non sta prendendo piede e comunque non è un formato estremamente diffuso, se non per gli eventi grandi, quindi il Mondiale di turno, il Pro Tour di turno e vabbè, ok, il formato diciamo è sanzionato, quindi ci sono degli eventi con della partecipazione, però negli store locali non si trova, pochissimi i negozi fanno Pioneer. E il motivo, i motivi sono due. Il primo è il supporto da parte della Wizard. La Wizard non l'ha mai supportato in modo pratico, in modo effettivo, il Pioneer. Ha sempre, come dire, tralasciato l'argomento, ha sempre fatto uscire carte nei set di standard che potevano essere potenzialmente giocate in Pioneer, ma non ha mai curato il Pioneer in senso stretto. Tutti pensiamo ad un Pioneer Masters, è anni che diciamo che uscirà, che ci sarà questo supporto. Insomma, dei set e delle cose dedicate, bene o male, poco e niente, poco e niente. Cosa che invece sembra che farà per quanto riguarda lo standard. Quindi, lo standard adesso è stato molto supportato, nonostante fosse un giocato, sottogiocato a livelli bassissimi, veramente, non giocava nessuno standard, ultimamente sta riprendendo piede, perché hanno esteso la durata degli anni a tre, anziché a due. Hanno cambiato delle cose. Adesso c'è in uscita un set che poi durerà per cinque anni, quindi con l'introduzione di queste nuove tipologie di set, ci saranno delle carte che faranno un po' lo zoccolo duro dello standard e che lo renderanno un formato più eternal e che sono stampate ad hoc. Sono tutte ristampe, ma sono quasi tutte ristampe. In realtà ci saranno ristampe anche delle cose nuove, ma fatte ad hoc per il formato, eccetera. Abbiamo un supporto molto diretto da parte della Wizard. Il prossimo anno ci saranno due stagioni addirittura. Sono in arrivo due stagioni di standard. Quindi anche a livello competitivo forte ci sarà poi più attenzione. Il set è giocabile completamente su arena, non come Pioneer che invece è giocato come Explorer e non come il formato identico. E voi direte, sì, è molto simile. Simile ma non uguale. Quindi manca qualcosina. E quel qualcosina che manca comunque può essere rilevante per qualche deck. Perché se mi manca la carta giusta che mi permette di giocare il mio mazzo, che famo! Tutti questi dettagli, secondo me, stanno portando il Pioneer un pochino a passare nel dimenticatoio. E quindi a fare modern e poi la gente switcha direttamente a standard. Quindi un formato eternal molto lungo, il modern o altro, che può essere il pauper, può essere, non lo so, quello che vi pare. E poi, se voglio giocare a un formato a rotazione, gioco lo standard. Perché tutto sommato mi dà un rapporto qualità-prezzo relativamente basso adesso, la durata dei deck sembra essere aumentata un pochino, nonostante ogni set è ipoteticamente una bomba a mano che fa cambiare completamente il formato. Quindi questo è evidente. Però questa cosa può succedere anche nel Pioneer. Cioè il Pioneer comunque non è un formato così risoluto. Cioè, tolto qualche deck come Fenici, Azorius, va bene così. E non è che sia un formato che in quattro anni non è mai cambiato. Anzi, cambia in maniera anche piuttosto volatile. Perché, per dire, Rakdos Prowers fino a un anno fa nessuno se lo sarebbe mai pensato ad essere il mazzo più forte. Rakdos Midrash è stessa cosa. E ci sono state alcune carte che l'hanno spinto altissimo. Poi, vabbè, Rakdos Midrash in realtà è giocato da più tempo, però, per dire. E così via per altri deck. Quindi, in realtà, è comunque un formato che è molto soggetto all'uscita dei nuovi set. Perché non è modern. Senza considerare che, comunque, ultimamente, con le stampe che stanno facendo e con le carte che stanno facendo, pure i formati Eternal come modern sono diventati estremamente variabili. Cioè, il modern ogni quattro mesi cambia il metagame, praticamente. Fate voi. E' vero che c'è, come dire, l'influenza di modern master, eccetera. Però ogni tre per due cambia il meta. Scusatemi. Quindi, questo per dire che, a questo punto, se devo cambiare il mazzo ogni tre per due, allora gioco lo standard, che è il formato più sopportato anche a livello di tornei sanzionati. Senza considerare che adesso l'Universal of Beyond, eccetera, saranno poi tutti standard legal. Ci saranno una bordata, da dopo Foundations, in poi, di set standard legal, di uscite standard legal. Quindi, il formato si rimpolperà ancora di più. Questo è per dire, in totale, che credo, credo, che la wizard abbia un po' perso l'interesse nel formato. Cioè, abbia deciso di provare il pioneer, inserirlo, ha visto che non ha preso piede, e adesso si sta orientando verso altre cose. Che sono, in questo momento, sembrerebbero essere il continuare modern, quindi continuare a supportare modern, perché modern oggettivamente porta soldi, perché ti può fare Horizon, che porta soldi, ti può fare dei set dedicati, ti può fare roba interessante. E hanno intenzione, attualmente, hanno intenzione di spingere veramente forte, secondo me, allo standard. E la prova è con queste stagioni, con questi set standard legal, con Foundations, e tutti questi supporti veramente diretti, diretti verso il formato. Quello che manca, secondo me, come detto già in altri contenuti, è il supporto dei tornei locali. Cioè, che siano Standard, Modern, Pioneer, o quel cacchio che ti pare, c'è poco supporto a livello locale. Mi aspetterei più, magari, ovviamente questo non è gestito dalla wizard, perché in Europa, in questo momento, lo sta gestendo Legacy, poi verrà gestito da chi per lei. Però, chiunque gestirà i tornei più piccoli, locali, GP, insomma, i tornei che non sono pro tour mondiali, o quelli giganteschi, in Europa, dovrà, secondo me, pensare a dare un supporto maggiore. Come diffusione? Innanzitutto, ma questo non è necessariamente un problema loro, ma è anche un problema dei negozi. Ma per farlo serve un supporto di tipo pratico, quindi promo fighe, carte interessanti. Cioè, se io faccio un torneo standard, e mi dai una bomba standard, come promo, sono incentivato. Viceversa, se io faccio un torneo per fare quattro partite e non ho nessun incentivo, mi passa la voglia. Quindi manca un pochino questo aspetto qua. Questo vale sia per il Piner che per lo standard, eccetera. Sul Piner, sinceramente, la vedo grigia. Credo ancora che prima o poi possa diventare il formato sostitutivo del Modern, anche perché non vedo alternative. Perché, come ho detto, il Modern è diventato inaccessibile a livello economico, quindi da qualcosa dovrà prima o poi essere sostituito. Però ho paura che quello che avevo preventivato essere un cambiamento imminente, cioè io mi aspettavo che il Pioneer spikasse in questo periodo, fra quest'anno e il prossimo, venga in qualche modo rimandato ancora agli anni successivi. Cioè, potrebbe diventare ancora più lunga la situazione e che la gente inizia in questo momento a giocare standard e non Pioneer. Mi sembra che la direzione sia quella. Ripeto, per la mia esperienza, poi fatemi sapere anche la vostra, Pioneer è poco giocato. I negozi ne fanno veramente in pochi. Io sono a Torino e pochi negozi fanno Pioneer. Pochissimi. Standard qualcuno sta iniziando. Non tanti, ma qualcuno sta iniziando. Credo che sia un problema diffuso in tutta Italia. Poi so che ci sono delle community di Pioneer comunque ben costruite, con una bella community e un numero di persone comunque non bassissimo. Lo so. Però se guardiamo il panorama italiano e tutti i formati, non credo che sia il formato giocatissimo il rapporto con gli altri. Per assurdo potrebbe essere più giocato Commander 1v1 addirittura. Quindi figuriamoci. Per un formato sanzionato non va bene. Non va benissimo. Quindi un po' questo problema qua. Detto ciò, come sempre ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E sono interessato a sapere se secondo voi il Pioneer morirà direttamente oppure se, come detto, subirà uno spike da qui a breve. Io credo molto in un set tipo Foundations, tipo Modern Horizon, eccetera, che in qualche modo spinga il formato. Cioè prima o poi un bel settone dedicato che farà solo ed esclusivamente Pioneer, lo faranno, lo faranno, e magari lo supporteranno un pochino meglio. Quindi credo molto in questa cosa che prima o poi secondo me avverrà. Mi viene il dubbio che possa essere, ripeto, fra un tot. Quindi fatevi sapere nei commenti se secondo voi a qualora facessero questo inserimento sarà imminente oppure se anche secondo me è una roba che prenderà a piede tra diversi anni. Scrivete nei commenti come sempre ragazzi risponderò nel più breve tempo possibile. Ciao a tutti e buon proseguimento. Alla prossima. Ciao ciao.